Un defibrillatore anche ad uso pediatrico è stato donato dai commercianti di Via Fiorentina alla cittadinanza. L'iniziativa è partita dall'idea di Simone Petrelli, titolare della cartolibreria Mille Idee, che poi, assieme ai commercianti e ai cittadini che hanno donato, è stata accolta da tutti, proprio per sostenere la spesa per l'acquisto del DAE. Allora, l'idea è nata poiché qui nei dintorni non sono presenti defibrillatori, abbiamo aperto una raccolta fondi e con l'aiuto dei commercianti e di cittadini che volontariamente hanno depositato anche una piccola somma, ma giusto per contribuire, siamo riusciti a installare il defibrillatore. Ci sono commercianti della zona o cittadini che hanno fatto anche il corso per utilizzarlo? Allora, alcuni di noi sono già formati per poterlo fare. Comunque adesso vediamo di organizzare un corso che coinvolga un po' tutti i commercianti, principalmente perché sono quelli più presenti durante il giorno. Insomma, vedremo di organizzare un corso. Di formare più persone possibili? Di formare più persone possibili, proprio per andare a salvare quante più vite possibili. Quando sarà utilizzato questo defibrillatore, posto che speriamo serva il meno possibile, l'azienda che ve lo ha venduto ne regalerà uno alla persona salvata? Sì, ne regalerà uno alla persona salvata che a sua volta potrà donare a chi vuole.